Credo che fino a qualche... una settimana fa il 99% della critica calcistica ritenesse l'Inter la grande favorita per lo Scudetto. Una delle domande che ci poniamo, poi parleremo anche di Lautaro... Non l'avevo data io. Te no Paolo? No, 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 perché l'ho parlato di Juve e poi ho aggiunto Napoli, non l'ho dato. Ok. Ma ti dico anche perché. È l'1%. Perché noi ci chiediamo se è ancora la favorita. Ma no, io ti dico di no, vabbè, adesso magari è più facile, no? Tu confermi quello che già pensai. No, no, ma la mia lettura è questa, cioè non è da quello che fa le carte, i tarotti. Vabbè, ce ne sono sensazioni, viviamo di sensazioni. No, ma cioè nel senso che io la considero una squadra, poi qui c'è un'annosa discussione che mi contesta sempre il buon collega Michele Borrelli, che però adesso non è in studio, ti ascolta da dietro, quindi non può intervenire, quindi io lo ridico. No, voglio dire, l'Inter è la squadra più vecchia del campionato. È una media, è una media, però in certi giocatori è davvero piuttosto vecchiotta. A Cerbi, Mkhitaryan, Mkhitaryan, guarda caso quest'anno non sta facendo la stagione dello scorso anno. Gli equilibri sono molto delicati, anche se tu hai i cambi, però i cambi, le turnazioni, c'è bisogno di fare un lavoro, come le squadre che partono con un progetto nuovo, come Fonseca, come Motta, cioè non è che uno entra, accendi la luce, tac, e Mkhitaryan l'anno scorso non è stato pariteno. Quindi secondo me col calendario molto pieno, con gli impegni internazionali, col fatto che quest'anno forse è chiaro che il focus è un po' più inconsciamente anche sulla Champions e forse anche consapevolmente. Marotta ha sempre detto così. Ecco, secondo me è una squadra un po' vecchia, cioè un po' vecchia che andrebbe rinfrescata, rinnovata. Parlo negli elementi fondamentali, cioè anche a livello agonistico, anche a livello di vigore. Per esempio nel derby, vabbè, Cialanoglu è Cialanoglu, guai, è intoccabile, minchino. Però con quella gabbia che gli hanno fatto, cioè a volte a livello fisico si si alzano i valori, capito? Questa è la mia chiave di lettura. Poi io stimo, a differenza forse di Francesco, stimo molto Simoninzaghi comunque, che per me, però, è chiaro che nel derby, forse anche sui cambi, qualcosa ha ciccato. Qualche cambio è un po' inventato. In modo molto semplice, visto che mi ha tirato in mezzo questa cosa e ha ragione, la differenza con me è una sola, che l'Inter ha la rosa, è la squadra più competitiva di tutte, con la dirigenza forse più pronta in generale, perché Ausilio è cresciuto tantissimo insieme a Marotta, non solo Marotta ha fatto bene in questi anni, ma anche Ausilio. E ho sempre detto in questi studi, e non solo, che se c'è una speranza per gli altri, si chiama Simoninzaghi. Ed è il motivo per il quale... No, io non sono d'accordo, ragazzi. Paolo, però, devi anche far parlare gli altri, se no, nessuno ha interrotto. Parlava voce alta, scusami. No, no, ho capito, però siamo in televisione, se no andiamo al bar. Avete due chiavi di lettura diverse. Il discorso è molto semplice. Intanto Marotta che gli mette questo benefit a due milioni nel contratto di quest'anno, per far sì che se lui vince lo scudetto ha questo premio, che prima non c'era. E questa mi sa tanto di una corda che si tira per tenere sulla tensione e perché magari... Lo accontenta in tutto e per tutto nel rinnovo di contratto, nell'ingaggio, però gli dà questo bonus. Sì, di un anno. Allora, se vince lo scudetto, sì. Perché questo mi fa capire che se secondo lui, secondo Marotta, per come ha ragionato in passato e per come ha ragionato lui da dirigente, ha capito che se quest'anno non porta a casa il campionato, non dico la Champions, perché se portasse a casa la Champions nessuno può dire A. Certo. Ma se non portasse a casa il campionato con la squadra che c'ha, Inzaghi l'anno prossimo salterebbe. Cioè non c'è ancora, Riccardo, questa fiducia, tra virgolette, incondizionata nei confronti di Inzaghi da parte della società? Ma guarda, io credo che lavorare in un club come l'Inter, oltre i due o tre anni, è un po' complicato per tutti. Sì, io credo che lui, l'Inter la fa giocare bene. Inzaghi al quarto questo? Inzaghi al quarto. L'Inter la fa giocare bene, secondo me ha anche tirato fuori giocatori che magari erano sconosciuti, tipo Bissek, tipo anche virgilizzare Darmian, dare una nuova coscienza e comunque lanciare Turam, perché Turam arriva all'Inter che dalla critica viene molto massacrato sul fatto che non segna mai. Però viene comprato come attaccante titolare. Sì, no, io credo, dal mio punto di vista, come prima per Fonseca, adesso dire che in tre giorni l'Inter si è diventata… Una squadra di brocchi, certo? No, non di brocchi, comunque io ho ancora in testa, con tutte le difficoltà del caso, una prestazione a Manchester da grande squadra, secondo me. Una settimana fa. E Monza e Genoa? E Monza e Genoa ci può stare che nell'arco di una stagione il giocatore, perché è chiaro, perché se no non ti fai una parità come male, che abbia magari nella sua testa, e qui deve esserci la bravura della società e di Inzaghi, che nella sua testa possa pensare che è la percezione che abbiamo avuto sia a Monza che nel derby, di dire siamo più forti, prima o poi… Sono tutte cose che abbiamo detto inizialmente. Abbiamo detto qualche giocatore un po' in là con l'età. Inzaghi si deve confermare. Confermare e poi magari un po' di appagamento inconsci in campionato e più ridi. Parliamo del cambio di tutto il centrocampo nel derby? No, allora, ecco. No, lo chiamolo. Allora, il cambio di gestire una squadra? Sì, però c'è un… Tre giocatori. Sì, però c'è un asterisco, Barella. Allora, Barella ha chiesto il cambio. Ok, uno. Eh no, certo. Allora, secondo il mio punto di vista, l'Inter è la rosa più forte, la favorita, però una squadra vive di equilibri e di momenti. Secondo me, oggi, l'Inter, anche se è la squadra più forte, non può fare a meno insieme di due su tre. Cioè, tu oggi togli… Quali sono? Cialanoglu, Barella… Ma siete d'accordo con Francesco? Sì. A Monza non avevi bastoni e Cialanoglu è pareggiato. Sì, esatto. Io posso criticare le scelte dovute al fatto di dire che forse, secondo me, l'errore, se proprio vogliamo vedere l'errore di Inzaghi, perché Barella lo toglie perché chiede il cambio e Barella sta fuori un mese perché se no… L'errore che secondo me… Non è un errore, un cambio che non ho capito è stato togliere i bastoni. Perché secondo me è vero che l'Inter è la squadra più forte, è vero che… Però devi capire, leggere la partita e arrivare a un momento tale che dici questo derby non lo vinco però non lo devo perdere. Esatto. Quindi, secondo me, poi è chiaro che stiamo parlando dei sedi massi. Secondo me c'è una buona possibilità che Gabbia, se c'è bastoni, non va a staccare quel pallone, per esempio. E porti a casa… No, no, però per dire, come logica, come logica, togliere… Cioè, sei giunto a questa conclusione. No, no, nell'equilibrio difensivo, siccome era una difesa in difficoltà, togliere bastoni e mettere Carlo Augusto, secondo me… Posso dire una cosa? È vero che è la rosa più forte, ma hai dimostrato da Monza e dal derby che senza bastoni e senza ceranogola la squadra gira in un altro modo… No, però… Ti aggiungo un'altra cosa, Bissek, appena nominato, a Genova ti regala il rigore alla squadra di Versailles. Però la testa conta anche molto. Quindi non è che siano tutti uguali agli altri. No, però la testa conta anche molto, perché a Manchester fa turno… Zelischi e Bissek fanno grandi… Però a Manchester, prendiamoci chiaro, bellissima prestazione, ma se vai a guardare i compi di tutta la partita, se il Manchester alla fine fa due per le differenze… No, non è vero, secondo me… Soprattutto perché alla fine hai gli ultimi due minuti… Però la prestazione di Bissek e di Zelischi è stata importante… Zelischi soprattutto, che messo in campo a Monza e messo in campo domenica, non ha inciso con la manca. Poi tu mi parli di bastoni, quando Pulisic entra come un coltello nel burro caldo, l'hai la formazione vittuale dell'Ista. Sì, però finisco dicendo che vai a toccare una zona di campo dove sei nato in difficoltà mettendo Carlos Augusto al posto di bastoni. Nella tua testa dici, posso anche provare a vincere. Azzardo. Secondo me, lasci i bastoni, finisci uno a uno, fai una brutta partita, ma non perdi il derby. Perché tu sei convinto che se rimane bastoni di Bissek? No, non sono convinto, però… È più facile che finiscono. È più facile che finiscono. Paolo. Il Milan ha avuto almeno quattro occasioni limpide prima del gol di colpo est di Gabbia. Non c'è dubbio che di queste quattro, ben tre, sono avvenute quando ci sono state la sostituzione. A centrocampo specialmente c'erano con Aslani e soprattutto a centrocampo dove facevano quello che volevano Morata e Pulisic, rientro, il Milan ha avuto un predominio assoluto. Mi dispiace Riccardo, però anche i colleghi tuoi di fede interista nel dopo partita e post partita di San Siro hanno tutti ammesso con tranquillità non solo sul periodo del Milan, ma hanno anche ammesso che gli errori non erano tanto tecnici quanto atletici da parte dei giocatori che non reggevano appunto per una stanchezza. Quindi passa molto di più secondo me, non il valore di stanchezza e di atletica, non per la partita di Manchester come lo stesso di Manchester, ha detto con il City e Inzaghi. Ha detto che pure il Milan gli ha giocato con il Liverpool e lo stesso Inzaghi si è veniva dato in conferenza. Inzaghi in post partita è stato di una sincerità disarmante. Davvero non ha cercato un attenuante che fosse uno. I complimenti gli ha dato la mano perché è stato perfetto. Si può dire che siete scesi anche in campo un po' tronfi e convinti di vincere? Ma è quello che ho detto, scatta quella moda. Inzaghi dice che non lo so se è andata così, non credo che avevano superiore. Io l'ho detto prima, a Monza e nel derby, se hai avuto la sensazione, a Monza ha maggior ragione, nel derby per il momento delle squadre che il giocatore che l'anno scorso arrivava prima sulle doppie palle, che quest'anno è sembrato un po' in ritardo, secondo me quest'anno inconsciamente dice che siamo forti, prima o poi il gol lo facciamo, soprattutto Monza, e soprattutto di testa nel leggere... Su Instagram sicuramente c'è la 9, un po' tronfi e lo era. Se non sbaglio Paolo è stato... Ha messo le due stelle, è stato uno del Milan. È simpatica nel senso che... È uno sfottoppo. È stato stigmatizzato proprio da Lautaro che si era contestato, ho detto tu devi fare queste cose dopo la vittoria, non prima. Vabbè, ma ci sta. Io avrei evitato questo anche perché c'è un auguro giocato nel Milan, per rispetto... Proprio per quello. No, no, senza altro, senza altro, però si fa capire che... C'è un vissuto, no? Cioè da fuori io penso che l'ossessionato sia lui, del Milan, che ha 19 scudetti, perché non mi cambia l'idea questo, però volevo andare su questa roba al volo. Le partite più brutte, Monza e Milan, ok, della stagione di Serie A, lasciamo stare Genova che secondo me l'Inter lì si è incartata da sola, anche perché la prima in particolare Genova è un campo difficilissimo, noi questo weekend avremmo da penare, altro che anche se hanno giocato in Coppa Italia. Cioè hai sofferto e hai rischiato di perdere anche a Monza, perché se l'arbitro non fa quello che fa, probabilmente il Monza va su da 1 al 94esimo, con il peggior e la peggior versione di Milano e Monza. Beh, la peggior versione... Cioè, Monza e Milano di quest'anno, prima del derby, prima dell'Inter, hanno due squadre che non avevano le gambe le coda. L'Inter ha rischiato la fine, però la partita di Monza è stata una partita bloccata. Come è stata la fine? Era sofferto a 0? Sì, nell'ultimo... al 75esimo. E' stata la partita di Monza? Sì, certo, però la partita di Monza ti ha dato la sensazione per un'ora che l'Inter ha avuto in mano il pallino del gioco, di una squadra che è convinta di poter fare il primo gol. Con cui Monza, però Ricchi, con specializzata la partita? Sì, sì. Cioè, il Monza, prima dell'Inter, era 5-0 da perdere? Sì, è vero. Invece no. Invece, invece, col Milan, si è avuto la sensazione che, secondo me, Fonseca abbia incartato un po' le carte in canne. Può essere anche il Milan che dopo 6 dei derby persi si mettono un po' più... No, perché ti spiego, i gol, dal vivo, i gol vengono, come si diceva del Milan che prendeva i gol nella stessa maniera, i gol vengono più o meno da stesse situazioni perché quando segna Pulisic, due minuti prima, Pulisic ha fatto la stessa cosa. Dall'altra parte, due minuti prima, Leao di testa ha avuto l'occasione che ha parato Sommer e dopo, da azione dopo, ha preso il gol di testa. Quindi, che ci sia un po' di superficialità, che ci sia un po' di tutto questo. Di appagamento in conto. Io mi ero convinto che l'Inter ha preso 8 ore. È quello che ti sto dicendo. Non riesce a tenere alta la tensione. Questo lo vedremo. L'Inter è diventata una grande rosa adesso. Non è più l'Inter di Conte che arriva dentro dei pezzi che non servivano. L'Inter l'ha fatto giocare bene in Zaglia, sta facendo giocare bene. Sì, l'ha fatto giocare bene, ma nell'arco di questi quattro anni, questo è il quarto anno, ha perso due scudetti e hai vinto uno. Eh, vabbè, non ci può sempre vincere, dai. Ho capito, ma era la più forte nel l'anno del Milan e nel l'anno del Napoli? Nel l'anno del Milan ha fatto un disastro da sola. Nel l'anno del Napoli fa un'over performance. Però non è che puoi dire ha perso… Ma non devi perdere lo spettrofebbraio. Sì, però… In questa area di maggio tu che sei l'Inter. Sì, però non puoi dire che ha vinto solo due scudetti su quattro, perché secondo me… No, ha vinto uno, infatti, neanche due. No, dico… No, non posso dirlo. Sono i dati. Vabbè, allora… Che ha vinto un Zaglia. Francesco dice che ha perso due scudetti che poteva portare a casa. Secondo me… Su tre? Perché? Quattro, duemila. Vabbè, quest'anno… Due scudetti, sì, ma non è sempre l'Inter l'unica obiettiva. Allora, l'anno del Milan, l'anno scorso, cioè, voi partite dal presupposto che l'unica squadra obbligata a vincere in Italia sia l'Inter. No. Quindi hai perso uno scudetto… Beh, non sempre, però quest'anno era un buon tradizionale. Scusami, no, sì, ma… Prendiamo i bookmakers che non sono tifosi di nessuna squadra. No, 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 non facciamo. Allora, fino all'anno scorso con il Napoli, cioè, l'anno scorso l'Inter non partiva favorita con il Napoli. Ma come no? Ma come no? Come no? Arrivava dall'anno prima che era crollata l'anno scudetto col Milan. Ma no, ma non partiva… Con le 17.000 pareggi tra gennaio e febbraio. L'anno dopo il Napoli fa 800 punti, tu lo gli stai dietro, ma puoi stare a provare e stare fino a mano. Dicendo così, sembra che Inzaghi abbia perso due scudetti su quattro, quello che è… Riccardo, ma l'anno scorso non era più forte. No, non è vero. Ma come non è vero? L'anno scorso non era più forte. Ma come non è vero? Secondo me l'anno scorso non era più forte. Ma il Napoli ha giocato con Kim, Varascheglia e gente di genere che quando è arrivata a Napoli manco sapevano chi fossero. Però poi hanno fatto la differenza. E ho capito, ti sto dicendo, chi è che aveva la… Scusami, la Rosa, l'Inter che ritorna a vincere. Forse Spalletti che ha fatto sì che il Napoli facesse la differenza. Spalletti e il giunto di quell'anno furono importanti. Come Conte viene aiutato molto l'anno prima di Spalletti anche all'Inter. Perché Spalletti dà una grande mano all'Inter a tornare competitiva. L'Inter poi con Conte fa una finale di Europa League e vince uno scudetto in due anni. Conte se ne va. Poi tutti qua in giro a dicembre dicevamo Ragazzi, Inzaghi gioca meglio di Conte. Questa è una squadra che ha più qualità. Ha messo dentro più giocatori. Quindi vincerà lo scudetto con 30 punti. Mi ricordo qua tutti quelli che c'erano. È vero che giocava meglio. E ci siamo beccati tutti noi, più anche a casa. C'è la critica, i social. Perdi lo scudetto col Milan che ne approfitta di tutti gli altri che non fanno squadra. Il Milan fa squadra e vince meritatamente lo scudetto. Perdendo un derby in cui l'Inter era in vantaggio. Esatto. E avrebbe preso il volo. Esatto. L'anno dopo il Napoli fa un over performance. E lì cosa puoi fare? Niente, gli stai dietro a meno 5 fino alla fine. Poi vincono loro, sono più forti. Ci sta anche quello. Ma non che prendi 30 punti. E l'anno dopo cosa fai? Fai di nuovo tu un campionato pazzesco. C'è una cosa che non va? Ma non lo so. Secondo me l'anno scorso l'Inter è a meno forte di quella di quest'anno. Ma ti dico, secondo me che non va? È l'allenatore? Ma no. Ma non che non vada. È che non è capace. Non è capace. Per gestire una rosa così grande, tu devi avere un allenatore che più che essere un allenatore è un gestore. Bene, trovi tre al mondo. Parliamo ancora di Simone Inzaghi, Lautaro, risentiamo di nuovo tutto. È stato poco fa anche dei singoli dell'Inter, no? Mkhitaryan, Acerbi. Non possiamo non parlare di Lautaro. Solo un gol in campionato dal 28 febbraio, ragazzi. Siamo al 26 settembre. Quello col Frosinone il 10 maggio. 28 febbraio. No. Ah, il gol che ha fatto, dici tu. Esatto. Quello col Frosinone a maggio. Allora, per carità, il ragazzo non si ferma un secondo. Vediamo anche la lista di quella che è stata la sua estate, no? Dall'ultima partita con l'Inter, a maggio con la Lazio. Passando per la Coppa America e ritorna da piano con qualche giorno d'anticipo causa l'infortunio di Taremi. Sicuramente è uno staccanovista. In campionato non segna, ha fatto un gol dal 28 febbraio. Quindi c'è una problematica Lautaro o tra poco comincia a segnare e non si ferma più? Vado. Prego, ragazzi. Chi vuole? Secondo me non è tanto una problematica. È un giocatore che ha avuto una stagione lunghissima per delle contingenze o forse anche perché lui, c'è stato l'infortunio di Taremi a un certo punto, no? Che ha accelerato il fatto che lui rientrasse, gli accorciasse le vacanze. Di pochi giorni. Di pochi giorni. E poi forse anche lui è uno che, adesso magari l'ha capito, no? Da alcune dichiarazioni abbiamo avuto la sensazione dopo il derby quando ha parlato, no? Ad una trasmissione e ha detto, eh, forse adesso è un calcio. Parlando con Pierre ha detto, sono stanco. Esatto, esatto. Però è chiaro che per generosità lui, cioè, si è sempre messo in campo, no? Al di là delle esigenze. E poi certo non era l'allenatore, a dirgli di no, perché comunque è uno così impattante. Ma no, semplicemente, oramai il calcio di oggi a un livello tale, dal punto di vista fisico-atletico, che sono delle macchine, se tu non sei rodato benissimo, c'è chiunque fa fatica. Chiunque fa fatica. E quindi, secondo me, la ragione è semplicemente quella, ecco. Io penso che adesso, ovviamente, studieranno un programma per lui, per cercare di riportarlo in condizione. Poi il giocatore, ovviamente, non si discute. Cioè, però è un giocatore per il quale Paolo Vinci, qualcuno, qualche tempo fa, ha anche, addirittura, ipotizzato il pallone d'oro. Esatto, infatti dicevo questo, si aspettava il pallone d'oro per una Coppa America grandissima che ha fatto. Sì, però è per quello che hai fatto, non per quello che sta facendo adesso. No, però è sull'anno solare. Sì, nel senso, vabbè. Quindi si aspettava con questo, però è chiaro che con queste ultime prestazioni, l'allancio era lontano mille miglia dal pallone d'oro. Secondo me abbiamo bisogno di rompere un po' gli equilibri psicologici col calcio, di ristorarsi con una vacanza più lunga, questo è l'elemento principale. Però il fatto che non trovi il gol è un problema, perché si vede anche in campo. L'ho notato una partita con il Milan, lui era nervoso, ha fatto quella girata che ha parlato Magna nel secondo tempo, sull'1-1. L'assist per Di Marco. L'assist per Di Marco. E poi una girata alta nel primo tempo. Anche girata molto alta nel primo tempo. Ho fatto questo, però è un po' nervoso. Gli manca l'attimo fuggente. Secondo te Taremi meriterebbe più spazio? Senz'altro sì, perché c'è il tramanti che mi piace, infatti lo rimpianzi quando in Milano non lo acquisto, per risolvi di ragione, dell'età, della cartografia, della scelta degli americani che vogliono ad ogni costo un giocatore anche rivendibile bene sul mercato, come valore economico. Ma Taremi è un giocatore che a me piace molto. Francesco, scusa. Arrivo, arrivo. No, prego, prego. No, il paradosso è che parli del derby dove secondo me il peggiore di Lautaro è stato Turam. Turam. Lui viene da una stagione massacrante, secondo me l'errore dello staff dell'Inter è quello di metterlo in campo a Genova senza preparazione, perché lui di fatto torna dalle vacanze il martedì. Lautaro? Sì, Lautaro. Devi mettere Arnautovic però nel caso, perché Taremi viene fortunato. Devi valutare, proprio perché, come diceva prima Paolo, hai una stagione pesante, Lautaro lo devi centellinare. Taremi, no, scusami, aveva recuperato poi per Genova Taremi. Sì, però era... Era appena ritornato dall'inforzo. L'ho mise in pacchina, no? Sì, sì, no, ma non era... Cioè, aveva avuto dei problemi. Non era al cento per cento. Però, ripeto, deve trovare il gol. Ripeto, a me nel derby, nel drammatico derby di dove tutti hanno giocato mali, si sono salvati in due, ha fatto di più di altre partite. Ok. L'hai visto comunque in crescita? No, in crescita no, però comunque a livello... Cioè, è nervoso, si vede, però ha avuto la lucidità di fare l'assist a Di Marco, ha fatto due o tre girate, e Turam nullo. L'assist è stato esaltato da... Beh, Turam ha quella grande parata di Mignosi. Esaltato da Mignosi. Sì, però come dinamica dei 90 minuti, tu dici, ha giocato meglio Turam, ha giocato meglio Lautaro di Turam. È stato esaltato da Emerson Royale, quell'assist, perché se Emerson Royale non fa l'ottavo errore... Sì, va bene, però, nel complesso... No, io qua sono un po' più d'accordo sul discorso di Paolo, perché ha avuto una stagione... Paolo B o Paolo V? Paolo V. Scusami, perché ha avuto una stagione complicata, lunga, e tra l'altro fatta di un numero spaventoso di marcature. Ma spaventoso. Cioè, Lautaro Scomello l'anno scorso ha trovato la consacrazione totale di quello che è stato il suo percorso in questi anni all'Inter, ed era anche giusto che ci fosse rinnovo di mezzo, che poi è arrivato, e abbiamo scoperto che non era rinnovo farlo tenere piccoli che a marzo. Da marzo in poi si parla del fatto che lui non segnasse più perché non aveva rinnovo. Quindi era atteso questa roba, ma io non credo solamente a queste cose, perché i giocatori quando vanno in campo non pensano a quanto gli arriva di bonifico a fine mese o durante l'anno. Non è mai un problema, sono fasi dei grandi campioni, hanno avuto un po' tutti anche in passato. Io ricordo da fan dai tempi di Del Piero e non solo, giocatori come lui e Baggio avevano anche dei periodi di sosta di tra quattro mesi, dove magari segnavano solo su rigore e sembravano meno performanti. Poi in realtà torni ad essere quello che sei perché è un giocatore, per me, completissimo. Mi ricorda molto in alcune cose Tevez, il Tevez, quello della Juventus e anche quello del Manchester, dove era addirittura più in forma fisicamente. Ad oggi io tra Lautaro e Vlaovic andrei a fare lo scambio a piedi per prenderne uno al posto dell'altro. Noi parliamo di Vlaovic e lui parla di Lautaro perché racconta di cosa prenderebbe. Senz'altro, ma ho già sentito delle cose che proprio non mi convincono. Che non ti convincono. Vediamo il calendario dell'Inter, Riccardo, perché nel weekend si va a giocare a Udine. Una partita sicuramente molto delicata, l'è stata negli anni scorsi, anche l'anno scorso, no? Molto fisica anche, no? Molto fisica, poi la Stella Rossa, poi il Torino, la Roma. Non è un calendario semplice, eccezione fatta per la Champions League dove gli avversari sembrano effettivamente più morbidi. Non vorrei fare il grandeur, come si dice, ma questa è l'occasione, sembra l'occasione per fare turnover in Champions e concentrarti sul campionato, con tutto rispetto per Stella Rossa e Young Boys. Perché comunque vieni da un derby perso e come per il Milan diventa importante Lecce per la conferma, per l'Inter diventa importante Udine. Perché non vincere a Udine poi ti intossichi, no? Anche perché dopo hai il Torino che è comunque una squadra in forma. Stai aspettando la Juventus di 20 ottobre comunque, no? Non ho capito. Aspetti la Juventus con ansia? No, no, io credo che l'Inter abbia le carte in regola per comunque tornare in careggiata. È una classifica molto corta, quindi adesso non va assolutamente guardata, ma guardate le prestazioni. Mi prendo quello di buono che c'è stato a Manchester e comunque le prestazioni le ha fatte con l'Atalanta, con l'Ecce. Insomma, l'Inter ha giocato. Ti preoccupa l'assenza di Barella? Perché Fratesi ha dimostrato che giocando dal primo non è lo stesso Fratesi che entra e spacca le partite. Sì, però abbiamo Zelinsky, c'è comunque Fratesi. Fratesi è un periodo importante perché lui tramite il suo agente, Paolo confermami, qualche alzata di mano durante l'estate con l'Inter l'ha fatta per dire meriterebbe più spazio, dovrebbe giocare di più. Questa è l'occasione che ha potuto avere. L'assicurazione, Paolo. No, no, indubbiamente. Si beh, aveva certamente mercato. Quindi questa è l'occasione per Fratesi per dimostrare. È vero che dall'inizio, ma l'avevamo già detto settimana scorsa, lui entra, fa bene, ma dall'inizio fa fatica. Però abbiamo una squadra importante, insomma, oddio, non vincere a Lecce non vorrebbe dire perché non c'era Barella. Scusa, Udine, non perché non c'era Barella, perché comunque l'Inter farebbe un'altra brutta prestazione. Io credo che l'Inter abbia le capacità per andare avanti senza Barella anche un mese. Questo non è un problema. Delicata, Udine, ragazzi. È delicata perché l'Inter quest'anno non solo non ha 15 punti l'anno scorso dopo 5 giornate, ma ha un problema in difesa. Cosa che l'anno scorso non c'era minimamente. Cioè, va bene le rotazioni. Pavard secondo me è entrato in stagione non bene. No, per niente. No, hai ragione, è un nome che avremmo dovuto fare. Pavard ha sottotone. E non se ne parla mai. Si massacra giustamente Vlauvi, si massacrano altri giocatori, si massacra Fonseca. Ma sul Pavard pagava 30 milioni. Colmoz ha fatto un errore sul gol. È anche l'ultima. Sul gol e anche Milano. Sì, esatto. I compagni l'hanno richiamato. I giocatori così di solito, Paolo, sbagliano un intervento forse. Cioè, il suo sostituto è Bissek. Sì. Che aveva fatto... No, no, ma Bissek aveva fatto un buon per campionato. Ha fatto bene. Cioè, secondo me, appunto, poi è stato riproposto due volte, no? Monza, Ederby, Pavard. Boh, non lo so, che secondo me ha confermato di non essere in forma particolare. Vero. Su Frattesi volevo dire che più che altro è un giocatore che non è completissimo dal punto di vista tecnico e tattico, no? È bravo, sente la porta. Quando ci sono gli spazi è bravo a giocare nello spazio. È energico, sì. Però non è bravo, tatticamente, a giocare sotto palla, oppure non è molto tecnico. Ed è qui, secondo me, la chiave di lettura per la quale ha giocato molto poco. Anche perché, per esempio, Michi Tarell l'anno scorso era un orologio e non sbagliamo una partita. Adesso, però, nell'ottica di un ringiovanimento della squadra, comunque, pian piano, secondo me, deve trovare più spazio. E penso che lo troverà. Vabbè, sicuramente. Paolo News, che non c'entra niente con la partita, con gli scorsi che facevano. Prego, però, le news live ci piacciono sempre. Eh, trodò perché è una cosa di due minuti fa, che Genoa Juventus è a rischio porte chiuse, a causa del, in programma sabato 28 settembre, alle ore 18, potrebbe essere giocata a porte chiuse dopo i fatti avvenuti nel derby di Coppa Italia, ieri Amarazzi. Attesi, nella mattina di venerdì 27, la decisione finale. Però anche qua, perché ci sono stati 48 feriti e tantissimi tra le forze dell'ordine. Su questa cosa qui però bisogna crescere noi, perché adesso che Juventus-Napoli è stata un'altra partita dove i tifosi del Napoli prima non possono andare, poi uno telefona e all'improvviso poi vengono riaccolti allo stadio. No, ma è uno che ha fatto ricorso. Beh, però, sì, ho capito, ho capito. E quelli che abitavano in Piemonte potevano andare. Però, sulla gestione del pubblico, sulla gestione del pubblico in Italia abbiamo qualche problema. Comunque è pazzesco, perché ci siano le derby di Roma che non sono sicuri assolutamente. Infatti la forza pubblica quest'ora li fa giocare sempre di pomeriggio, ieri sera invece non è successo. Però per questo motivo, a Milano siamo anni luce, ma sono cose successe lì in mattinata, a mezzogiorno ancora prima, quindi non è una roba da stadio. Però queste cose sono imparabili. Se le erano promesse. Perché se le erano promesse, se si danno appuntamento su Telegram dove non ti intercettano e si menano, però è una cosa incredibile. Ne sai di social, però? Comunque, eh? Ne sai di social, dico. Eh, beh, beh. Critichi tanti social, ma poi li si conosci bene. Non è che li critico, dai. No, dici quello dei social, quell'altro dei social, quelli conoscono il Telegram. Oppure Telegram. Eh, beh, certo. Grazie, io lo conoscevo. Telegram a parte. Sta roba interessante, però, perché è una roba molto particolare quella che dici. Beh, Telegram, Telegram non è tracciabile e come sai… Anche se adesso dicono che potrebbero renderlo rintracciabile. Qualche settimana fa hanno arrestato il fondatore di Telegram e sembra che adesso… Perché è praticamente un russo multimilionario e perché tu con Telegram proteggevi sostanzialmente tutte le attività criminali possibili, no? Perché non è… E però sembra che lui adesso, come condizione, non so se per essere liberato qualcosa, scelga di dare i codici alle forze d'orizioni. Qualora le forze d'orizioni lo richiedano. No, sei ancora in tempo. Francesco, sei ancora in tempo. Quel mondo dei social di oggi sono stuccato. No, ma se hai dei traffici o delle cose, attaccati a Telegram. Vedo che sei… Vai. Nessuno c'ha traffici. Che ancora… Che ancora… Per fortuna no, c'è anche un avvocato di fianco se vuoi. Vedo che sei informato. Per chiudere, ragazzi, il capitolo Telegram. Sì, però lui è informato dal punto di vista, non solo dei social, ma anche dal punto di vista del diritto internazionale. Perché questo qua non c'entra il diritto italiano. Vabbè, andiamo oltre. È ovvio. Andiamo oltre. Stiamo scoprendo un Paolo Bargigia versione… No, vabbè, mi aggiorno. Boomer. Per chiudere l'Inter è la favorita per lo scudetto, la tua favorita, Paolo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. L'ho detto sempre al primo momento. Grande favorita. Alla giornata. Perché se non manda a bruciapelo ancora… Comunque, andate a prendervi la registrazione… Vi stai su Telegram. Io vorrei che andassi a prendervi… Rispetta a Telegram. No, scusami, ti ho interrotto… No, no, mi chiedeva perché la domanda brucia pelo… No, no, no. No, perché era la scudettata, perché mancano 20 secondi e non l'avevo ancora sentito riguardo. No, vorrei che andassi a riprendervi l'ultima dichiarazione di settimana scorsa mia qua in studio, quando tutti dicevano 3-0, 4-1, 5-0, io ho detto vincere il 1-2-0. È vero, me lo ricordo. Me lo ricordo. Perché prima o poi la cosa gira. Non so se l'hai detto a livello provocativo. No, l'ho detto a livello provocativo, ma anche perché prima o poi l'hai già la ruota. Cioè, non è che poi… E due gol di differenza c'erano se Ocafo non spara alle stelle con la palla l'ultima… Perché domani non sono capace di scommettere.